A seguito delle notizie apparse sulle testate giornalistiche e sui media circa la mia candidatura alle imminenti elezioni amministrative comunali per la carica di primo cittadino, desidero dare personalmente l'annuncio della mia scelta di proseguire nel mio percorso professionale e di non fare il salto nell'arena della politica. A dichiararlo è Enzo Calfa. Dopo una lunga ed attenta valutazione mi sono convinto che la mia attitudine, la mia formazione, la mia esperienza professionale e di vita si esprimano al meglio nel campo tecnico piuttosto che in quello politico, con l'assoluta certezza di poter dare un contributo di maggior valore in questo ambito. Scrive ancora Calfa. Desidero ringraziare pubblicamente tutti coloro che hanno pensato alla mia persona quale degno rappresentante della mia città, specialmente in un periodo storico ed amministrativo tanto complesso e difficile. Ringrazio anche chi mi ha sostenuto nei modi più vari, amici, conoscenti e non che con una telefonata, un messaggio, un semplice gesto sui media e sui social mi ha fatto provare un'emozione forte e mi ha dato ancora più fiducia in me stesso e nel mio percorso umano. Scrive ancora nella nota Enzo Calfa. A tutti coloro che si accingono alla competizione elettorale successivamente all'amministrazione della città auguro buon lavoro e garantisco la mia solidarietà, il mio sostegno morale e la mia disponibilità professionale. Forza Crotone!